è in progress peruccheria la peruccheria al grande miglia affascinanti certi prodotti, pasta modellante, marchi colorati già stuoto beh è uno di più grandi a Modena o sbaglio quanto è? 100 eh? quanti metti in quanto? no questo no, questo è 85 pensavo di più approfitto per lavarmi una mano affascinante, sempre affascinante sono le riviste per le signore il casco i tubetti affascinante anche la lavatrice altri prodotti coloranti attra lo con me bilder steam facciamo vedere le spille spille per? no no, ecco una curiosità prendere la città ai clienti, chi la vuole è in progress se uno ha lo zaino, attacca lo zaino accesso adesso finiscono le scuole, i ragazzini le prendono extension a ciocca, 5 euro stiratura caldo, ogni grammo 4 euro quanti grammi di capelli hanno le persone? a volte ne sono anche 100 dipende da quanti capelli ha stiratura caldo affascinante che radio è? è Spotify ah Spotify esiste dal? 87 87 e qua? qua dal 96 ah quindi sono già 23 anni di grande miglia ero giovane quindi Andrea eh come si chiama l'altro? Vito solo voi due? oggi sì eh e poi? e poi? diciamo l'ebraio sì ma solo voi tre? no siamo in 10 ah ok ecco eh se no però i i i i capi Andrea e Vito o no? sì? allora grazie eh con quale inquadratura chiudo? ma potrei chiudere con eh ah ecco modena carpi sassuolo ma gli altri chiudono prima evidentemente alle? alle? ma calcio le 9 il sassuolo le 8 il sassuolo le 8 il sassuolo le 8 ah perché ne avete un altro? quattro sassuolo due modena una calcio e una sassuolo ma 10 in tutto o 10 solo qua? 10 solo 2 e in tutto? 50? 1 2 10 5 30 proprietà unica vostra? siamo qui non ci stiamo con quanti? 10 12 tutto dal 96 no no prima il primo del 87 qual è? con il 100 per il 51 per il 50 eh per il 50 adesso dai 40 60 me ne vado grazie davvero